. Infine. Chiudiamo in dolcezza, con il dolcetto shueh shueh di Anna Moroni, da preparare in pochi minuti con la pasta sfoglia già pronta. . . Prepariamo le caramelle di frutta al ragù di fragole. Ingredienti procedimento Sbucciamo le banane, le schiacciamo con la forchetta, e le irroriamo subito con del succo di limone, per evitare che annerisca. . Addolciamo la polpa con lo zucchero a velo, mescoliamo e teniamo da parte. Prendiamo la pasta sfoglia già pronta. . Ritagliamo dei rettangoli di 8 x 4 cm. Su ogni rettangolino, mettiamo al centro un po' di polpa di banana, uno cucchiaino abbondante. . . Mettiamo al centro, in piedi, mezza fragola e richiudiamo la caramella intorno a quest'ultima. . Disponiamo le caramelle sulla teglia, spennelliamo con uovo sbattuto e mettiamo su ogni fragola un cucchiaino di cioccolato bianco. . Inforniamo a 2 centesimo per 10 minuti, poi abbassiamo e completiamo la cottura. Da fredde, le decoriamo nuovamente con il cioccolato bianco fuso. . Le nostre, diesis video ricette. . 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